Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora, oggi andiamo a aggiornare quel video di circa un anno fa, che trovate in descrizione e di cui tra poco vi linkerò anche nel video, la guida per gli acquisti per quanto riguarda i tre grossi sistemi LCG che seguo sul canale Dovera Gondor. Ora, l'idea è quella di, a distanza di un anno, andare un po' circa un anno, un anno e due mesi. Era stato fatto a ottobre del 2022, quindi con alcune considerazioni che erano valide allora. L'idea è un po' ripercorrere alcune di quelle considerazioni e vedere se, diciamo a distanza di un anno, a dicembre 2023, sono ancora valide e come possono essere integrate. Quindi, diciamo, la mia idea era fare un video sugli acquisti generale, poi sono andato a rivedermi quello fatto nell'ottobre 2022 e devo dire che molte delle cose, cose soprattutto per il Signore degli Anelli LCG, per Arkham, ma devo dire anche per Marvel, sostanzialmente, sono valide. Pertanto, per chi volesse, come dire, avere un aggiornamento sul tema guida per gli acquisti ad oggi, quindi a dicembre 2023, la prima cosa che vi consiglio di fare è andarvi a vedere il video dell'ottobre 2022, perché molte delle tematiche, soprattutto quelle che riguardano il repackaging, la nuova edizione del Signore degli Anelli LCG, i modelli di pubblicazione per Marvel, per Arkham e per il Signore degli Anelli, sono tuttora valide. Quindi, in realtà, io quello che andrò a fare in questo video sarà quello di, per ogni sistema, andare a fare una veloce analisi di quello che è uscito nell'ultimo anno e vedere come integrare tutte le considerazioni fatte. Per cui, il mio consiglio è quello di andarvi a riprendere il video che vi lascio in descrizione, perché effettivamente copre molti degli aspetti, soprattutto di come sono suddivise le espansioni, come districarsi tra i pacchettini deluxe, nuove edizioni, nuove pubblicazioni, nuove editori e così via. Quindi, senza ulteriori indugi. Allora, partiamo da Il Signore degli Anelli LCG. Allora, rispetto all'anno scorso, quello che è uscito di nuovo, di fatto, sono la espansione saga delle due torri e il risveglio di Angmar e espansione campagna. No, qua è la cerca sogni, quindi qua è sbagliato, ma il concetto è uscita a una nuova espansione campagna, la cerca sogni. Quando feci il video un anno fa, erano già presenti i quattro mazzi tematici, le tenebre di boss 4, il corset, l'espansione campagna del risveglio di Angmar e l'espansione saga. Ora, tutte le considerazioni fatte allora su cosa mi conviene prendere, sono un giocatore della prima era, ma che cosa mi conviene fare, tutto sono valide, tuttora valide. Chiaramente abbiamo avuto l'ulteriore conferma che la cerca sogni, ad oggi, è la seconda espansione pubblicata all'interno dell'edizione Revised e quindi ci aspettiamo che nel prossimo futuro la prossima espansione che verrà pubblicata sarà quella del ciclo delle Red Mitrim. Mi riferisco in particolare a tutte quelle espansioni che iniziano con la Deluxe The Wilds of Rovanion con le sei successive Adventure Pack The Withered Head, Roma, Cross Rovanion e così via fino a The Fate of Wonderland che non sono mai state pubblicate in italiano. Quindi le assunzioni fatte ai tempi ormai due anni fa di quali potevano essere i prodotti stampati per i signori di annelli e le cg si sono dimostrate vere e pertanto io qui mi aspetto che tra un anno, se andrò a fare un aggiornamento di questo video, ci sarà il Corset la Compagnia dell'Anello le Due Torri il Ritorno del Re che ci aspettiamo per il prossimo autunno e come espansioni Campagna Pack Scenario ci sarà, oltre alla Cercasoni anche The Wilds of Rovanion non so, le terre selvagge del Rovanion non so, vedremo come come verrà tradotto. Ci aspettiamo altro? Questa è una bella domanda ecco, questa è una domanda che mi viene fatta spesso in questi mesi di cui non avevo dato risposta un anno fa di cui non darò risposta oggi ma posso dire che come dire io penso che il ciclo di ristampa delle espansioni del signore di annelli e le cg possa essere giunto a una conclusione poi non ho sentito rumors non ho idea bene di come sono andate le vendite per cui mi baso su quello che come dire sento, leggo nei forum nei server discord sulle pagine facebook non credo che ci sia intenzione lato Fantasy Flight Asmode di pubblicare altre espansioni oppure verremo come dire stupiti rimarremo stupiti dal fatto che invece questa cosa non si considererà vera diciamo che cautelativamente io mi aspetto che della linea revised abbiamo visto sostanzialmente tutti i prodotti che sono usciti e che usciranno non c'è da essere tristi di questa cosa anzi dobbiamo essere contenti del fatto che il signore di annelli cg ha avuto nuova linfa tra l'altro esistono una marea di contenuti fan made di qualità altissima e peraltro spesso secondo me anche meglio di quello che sono i contenuti ufficiali mi riferisco a long extended party per esempio ma anche ad altri per cui insomma mi aspetto che questa sarà un po' la storia poi vedremo perché magari nuovi mazzi tematici degli scenari ad hoc chi lo sa magari rimarremo stupiti dalle mosse della fantasy flight l'unica cosa che posso dirvi è che al momento non ci sono indicazioni in questo senso quindi rispondendo diciamo al tema del video che cosa conviene comprare io ribadisco quello che dissi un anno fa chi inizia oggi conviene che si prenda il corset conviene che si prenda le tenebre di boscoatro e un paio di mazzi tematici da lì può cominciare a decidere vale quello che dicevo cioè quello del privilegiare una campagna con la sua espansione eroe perché c'è una tematicità qui a questo punto le scelte sono due tra cercasogni campagna e cercasogni eroe e se vi imbarcate nella saga cosa che io consiglio in maniera spudorata ed evidente mettete in conto che il budget sarà per tre scatole perché è compagnia dell'anello due torri e ritorno del re vale la pena sì la saga sono bellissime si può giocare la saga solo con il corset sì se avete qualche mazzettino tematico un paio di mazzi tematici è meglio però la modularità del signore di anelli è tale per cui se avete un prodotto potete giocarlo con quello che avete è chiaro che nel caso del signore di anelli corset e vi prendete l'espansione di hangmar scusate il risveglio di hangmar espansione campagna potreste andare a fare piuttosto fatica questo è tanto vero diciamo un po' per tutte le espansioni campagna in particolare per hangmar perché un elemento in più che aggiungo nel video di oggi rispetto a quello di un anno fa è che se devo fare un ranking tra difficoltà delle espansioni fermo restando che credo che la saga abbia una difficoltà crescente quindi la compagnia dell'anello poi le due torri poi il ritorno del re abbiano una difficoltà via via crescente questa è un po' la mia sensazione sulla base dei tanti playthrough fatti anche se poi è difficile ovviamente perché il gioco è talmente ampio e poi si può usare tanti mazzi pull ridotto pull esteso e così via riguardo alle espansioni campagna penso che la cerca sogni sia un'espansione campagna e un'espansione in generale più facile del risveglio di hangmar quindi se siete alle prime armi volete comprare un'espansione campagna sebbene entrambi abbiano una come dire un flavor un racconto una storia che è benissimo integrata nelle meccaniche d'altronde sono cicli moderni non cicli come dire un po' vecchi come poteva essere il nanosterro piuttosto che contro l'ombra e così via forse la cerca sogni è quella della difficoltà un pochino più bassa peraltro anche la modalità campagna potete vedere le varie recensioni che ho fatto sul canale mi sembra sia più facile del risveglio di hangmar quindi diciamo il suggerimento finale è corsette tenebre di boscoatro un paio di mazzi tematici e da lì scegliete saga se vi piace l'idea della saga e lo consiglio ma ipotecate tre box che hanno dentro carte giocatore e carte incontro e ovviamente avventure e se volete partire con un'espansione potrete pensare di partire con la cerca sogni perché quella è un po' più facile è un po' più complessa come meccanica perché c'è tutto l'aspetto della navigazione non giocherei il primo scenario della cerca sogni se non avete almeno masticato il corsette le tenebre di boscoatro in maniera devo dire anche piuttosto importante cioè l'avete giocato più di una volta magari a diversi numeri di giocatori poi potete muovervi verso appunto la cerca sogni perché la ritengo essere un pochino più facile tutte le domande del ma cosa mi conviene fare se voglio prendere un pezzo c'è un nanosterro che ho trovato lì in giro che cosa mi conviene fare c'è un pack singolo di isengar che cosa mi conviene fare allora più andiamo avanti col tempo e più sarà difficile sia in inglese che in italiano recuperare materiale che non fa parte della linea smodè quindi se la vostra idea è voglio comprarmi qualcosa di poco ma che mi dia ogni tanto esperienza di lcg il mio suggerimento è state sulla linea smodè perché avete la nuova tradizione avete la campagna avete delle box più complè più come dire ergonomiche e così via se invece la vostra idea voglio tutto beh allora non aspettate comprate trovate mercatini ebay dovunque troviate espansioni dei signori anelli privilegiate lotti ovviamente interi quindi deluxe più cicli con deluxe mi riferisco a scatola con tre scenari e carte giocatori e il ciclo sono gli sedventure pack sufficienti seguenti scusate perché poi non ci sarà più tempo di fatto non ci saranno più già non sono più stampate via via gli store le stanno esaurendo i privati chi vi vuole vendere la collezione magari la sta vendendo ora per cui non temporeggiate vale la pena dipende dall'esperienza di gioco che volete fare sicuramente angmar la cerca sogni e probabilmente anche il winderland sono tra le campagne più belle quindi da un punto di vista di bellezza la linea revised è diciamo è in stradata verso le avventure più belle però da un punto di vista di flavor di completezza di carte giocatore e così via ovviamente anche gli altri cicli sono meritevoli scelta vostra nel senso dipende dal vostro approccio se l'idea è prima o poi di avere tutto muovetevi se invece non vi interessa avere tutto e volete giocare ogni tanto una campagna allora privilegiate le revised anche a costo diciamo di nel bilancio costo costo scenari privilegiate la revised edition perché è più corretta più completa c'è la modalità campagna e così via quindi spero di aver coperto molti dei punti su signori anelli poi si potrebbe parlare un'ora su ogni singola espansione non è questo la sede vi rimando come detto al video precedente in cui appunto coprivo vari di questi di questi punti spostiamoci verso Arkham Horror dunque Arkham Horror al tempi del video non erano ancora uscite o stavano uscendo le chiavi scarlatte di cui ho fatto una recensione per cui poi alla fine troverete anche la playlist delle recensioni sta ormai completando tutto il packaging della diciamo riedizione con espansione campagna più espansione investigatore siamo ormai arrivati al circolo spezzato per cui a memoria mancano il divuratore dei sogni e la cospirazione Innsmouth e poi tutti i prodotti di Arkham Horror saranno nella nuova formato editoriale di espansione campagna più espansione investigatori è uscita anche fortuna e follia come pod ci sono sempre i mazzi investigatori vedo che le cose del vecchio formato non sono più così tanto trovabili e anche qui devo dire non aggiungo molto di più a quanto già detto nel video partite sicuramente dal revised corset in generale poi spostatevi perlomeno verso le prime due espansioni cioè quindi eredità di Danwich strada per Carcosa e conseguenti espansioni investigatori no? quindi sì scusate espansione campagna Danwich Carcosa e espansione investigatori di Carcosa di Danwich e poi a quel punto lì si apre un po' tutto quello che volete ora avendo rigiocato in quest'anno alcune delle campagne di Arkham se volete poi un suggerimento su come continuare dopo la strada per Carcosa io non andrei sull'era dimenticata perché è piuttosto punitivo ma valuterei ai confini della terra qui c'è un aspetto diciamo legato a quello che a me piace a me piace molto l'ambiente generalmente artico e così ai confini della terra la trovo una campagna molto tematica modulabile anche di questo ho fatto una recensione e non eccessivamente difficile quindi potrebbe essere un ottimo diciamo soluzione per continuare la vostra discesa nel mondo di Arkham dopo Danwich che rimane credo assolutamente la prima campagna da fare dopo quella del corset dopo Carcosa che nonostante l'età è una campagna che a mio avviso rimane tra le più belle non solo a mio avviso ma in generale da parte della community quindi raggiunge dei picchi di come dire semplicità ma soddisfazione veramente molto alti vi suggerirei anche di andare a valutare come acquisto non in progression ai confini della terra espansione campagna ora qui vale sempre quello che dico quando mi riferisco agli LCG il senso di andare in progression c'è cioè il senso di comprare Danwich Carcosa Dimenticata Circolo Spezzato Divoratore dei Sogni Innsbut Confini della Terra Chiavi Scarlatte c'è perché perché man mano diventano sempre più complesse magari non più difficili però regole nuove regole nuove parole chiave nuove meccaniche e così via se penso alle meccaniche delle chiavi scarlatte dico caspita pensiamo agli investigatori delle chiavi scarlatte e tra quello che lascia giù gli indizi e le carte personalizzabili e tutto siamo molto distanti come complessità dalla semplice eredità di Danwich dove migliori la dinamite e sei a posto no vabbè è un esempio chiaro però il concetto è vale sempre forse ancora di più tra tutti gli LCG tra i tre che seguo perlomeno il fatto che comprare modalità progression vi pone al sicuro da un un impatto di difficoltà molto alto nei confronti della vostra preparazione poi tutto si fa nulla vi vieta di giocare divertivi con gli investigatori delle chiavi scarlatte ma ovviamente troverete una maggior complessità come dire nell'incastrare le vostre conoscenze magari acerba magari fresca magari da principianti con meccaniche che sono nuove e a mio avviso se vogliamo poi prendere esempio delle cavi scarlatte anche complesse anche per investigatori più navigati no quindi in conclusione su Arkham corset un paio di mazzi tematici sì di mazzi tematici mazzi investigatori perché sono veramente utilissimi come prodotti sono mazzi pronti con già pronte le carte che vi fanno per buildarli sono mazzi che hanno dentro carte staple anche poi di altri colori in particolare non so Jacqueline è un personaggio molto forte e Winifred è un personaggio molto divertente con questa cosa dell'eludere e tutto quindi corsette un paio di mazzi tematici e poi cominciate con l'espansione di campagna il mio suggerimento è seguire Danwich Carcosa e poi lì si apre uno scenario il primo è continuare in modalità progression il secondo il mio suggerimento è andate poi sui confini della terra poi lì da quel momento lì scegliete un po' in base a quello che vi piace ho aggiunto rispetto a un anno fa ai confini della terra perché avendola rigiocata ho permesso che mi è ripiaciuta tanto ed essendomi anche un po' informato sulla difficoltà sui pareri e tutto concordo sul fatto che può essere un'ottima campagna introduttiva anche perché è modulabile quindi non potrebbe durare 5 o 6 scenari e non 8 da giocare diciamo tra le prime quindi direi dopo Danwich e Carcosa che nella mia testa invece conviene sempre avere seguire la progression in questo caso perché sono particolarmente istruttive nel caso di Danwich e belle nel caso di Carcosa per quanto riguarda i pod vale la considerazione fatta in precedenza se volete giocare eventi epici e se seguite il canale avete visto che ne facciamo siamo riduce tra l'altro da un evento epico di Arkham con 73 persone a Milano qualche paio di settimane fa quindi se volete giocare eventi epici ci sono la Melma che divorò ogni cosa la guerra degli idee esterni macchinazione temporale labirinti della follia sono a diversi scaling di numeri di giocatori eventi epici se no come dire anche qui privilegiate la progression perché ovviamente da un punto di vista di proprio meccanica vera e propria il rugaru il carnevale degli orrori sono più introduttivi rispetto a quanto può essere macchinazione temporale che ricordo insomma di averlo giocato e di averci messo un po' a metabolizzare le meccaniche quindi revised mazzi investigatori progression sui primi due cicli poi quello che volete e pod in ordine di uscita o privilegiare quelli che centrano molto di più col vostro gruppo di gioco per completare e aiutare la vostra esperienza vedo tra l'altro che qua sono scomparsi ah no non sono scomparsi il ritorno a pare non ci sono state novità nell'ultimo anno pertanto pare che la linea del ritorno a è interrotta dopo il circolo spezzato non sembrano esserci più in programma ritorni a il divoratore dei sogni e la cospirazione di Innsmouth peraltro siamo in questa fase in cui sono già state ristampate in nuovo formato le espansioni campagna e investigatori fino al circolo spezzato di cui non c'è scusate di cui è l'ultimo ad esserci il ritorno a quindi c'è in realtà un po' di apprensione perché si dice non è che forse di Innsmouth e di divoratore dei sogni non faranno la versione campagna e investigatori io non ho visto notizie a riguardo ma mi stupirei tantissimo se non facessero quest'ultimo sforzo di repackaging dei divoratore dei sogni e della cospirazione di Innsmouth peraltro se invece sono uscite notizie e me le sono perse scrivetemele pure nei commenti che diciamo mi aggiorno volentieri in questo senso spostiamoci verso l'ultimo dei tre sistemi last but not least è Marvel Marvel Champions allora diciamo che dall'ultimo video nel quale era uscito sostanzialmente Genesi Mutante e come pod eravamo arrivati a The Hood sono arrivati Mojo di cui ho trovate anche la recensione Evoluzione Futura Box di cui anche questa trovate la recensione la wave corrispondente quindi i quattro eroi X-Force Psylocke Angel X-23 Deadpool è stata annunciata Age of Apocalypse per il prossimo anno ma soprattutto c'è stato un repackaging dei primi eroi raccolta pack eroi 1 che conteneva Miss Marvel Thor Vedova Nera Doctor Strange e Hulk repackaging raccolta del pack eroi 2 Ant-Man Quicksilver e Scarlet e cosa possiamo dire di questi prodotti che come dire sono perfetti cioè oggettivamente Marvel fa della modularità l'ho detto tante volte il suo punto di forza il fatto di avere in un'unica box quattro eroi tematici o comunque che rispecchiano un po' un tema nel primo caso ci sono gli Avengers nel secondo caso diciamo gli Avengers più giovani ma anche se non è corretto dire più giovani però c'ha una sua tematicità no Ant-Man e The Wasp e Quicksilver e Scarlet mentre gli altri sono come dire gli Avengers un po' più classici forse l'eccezione di Miss Marvel beh insomma queste scatole sono molto comode prima perché costano di meno e secondo perché anche lì sono compatte che è un aspetto in Marvel non banale perché con tante espansioncine piccole poi anche lo storage diventa un po' più complesso valgono tutte le considerazioni fatte a cui però aggiungiamo due elementi il primo è l'espansione di Mojo la consiglio tantissimo a quelli che vogliono una bella sfida con un cambio di meccaniche cioè voi magari avete preso il corsetto avete preso un paio di scenari qualche eroe qualche espansione campagna volete un twist volete cambiare qualcosa volete provare a vedere qualcosa di nuovo beh l'espansione scenario di Mojo che può anche essere giocata in modalità campagna in tre scenari è assolutamente consigliata è difficile a livello esperto è difficile è complessa perché vi aggiunge proprio delle meccaniche completamente diverse penso a Mojo ma alla stessa spirale e così via vale la pena anche qui trovate la recensione vale assolutamente la pena per cui consideratela se volete come dire avere un un occhio più ampio su quello che sono le potenzialità di questo gioco per quanto riguarda l'espansione evoluzione futura allora da allora io ho giocato più volte recensito sia Genesi Mutante che evoluzione futura quando feci il video un anno fa stavo giocando Genesi Mutante e dissi che mi sembrava insomma una sorta di Marvel 2.0 di riedizione di Marvel 2.0 lo confermo nel senso che non ha una sua difficoltà estrema e soprattutto degli scenari che rispetto per esempio ai più ricercati o anche al Titano Folle o anche a Sinistra Intenzione sono un po' più bassi come complessità non sono brutti i due centrali forse non mi piacciono tantissimo ma invece il primo il quarto il quinto generalmente sì menzione d'onore a Evoluzione Futura perché Evoluzione Futura introduce le trame secondarie giocatore che a mio avviso sono un elemento abbastanza dirompente nel modo di giocare a Marvel perché vi aggiungono un layer di strategia di profondità che altrimenti manca e danno senso a tante altre carte uscite nel tempo sulle trame secondarie che invece dipendevano molto dal mazzo incontri invece ad oggi dipendono anche dai giocatori quindi anche qui come dissi per Arkham Horror poco fa valuterei sempre restando che diciamo l'ipotesi di progression quindi di comprare man mano che sono usciti è sempre valida io la ritengo sempre valida però ecco magari visto la complessità dei più ricercati della galassia che è sicuramente a mio avviso l'espansione più ostica tra le espansioni campagne proprio perché i villain soprattutto Nebula e Ronan e la campagna sono veramente punitivi forse valuterei dopo il teschio rosso dopo la prima wave di eroi di andare su evoluzione futura Genesi Mutante e l'evoluzione futura e magari andare un po' dopo su Titano Folle e Sinistra Intenzioni perché Genesi Mutante è un po' una riedizione in salsa X-Men del corset se vogliamo metterla così ed evoluzione futura a parte avere alcuni scenari molto divertenti penso a Fenomeno piuttosto che a quello dei Morlock che comunque insomma introduce qualcosa di nuovo qualche twist nuovo nelle meccaniche di gioco introduce tutta quella parte nelle meccaniche di gioco dei giocatori delle trame secondarie che secondo me sono molto valide molto interessanti quindi consiglio finale su Marvel che è il più modulare di tutti corset magari uno due pack eroi per cominciare ad avere più eroi possibilità di buildare maggiormente tra l'altro nel pack 1 c'era anche Capitan America ovviamente cominciare a buildare un po' meglio con le carte che avete a disposizione e poi da qui io direi Teschio Rosso perché è la prima campagna vi aggiunge due eroi vi aggiunge cinque villine e quindi necessariamente un'espansione campagna ci vuole non potete avere otto eroi e tre scenari dal corset poi da lì potreste orientarvi su uno di questi pack scenario eviterei la squadra di emulizione perché secondo me non è un esperimento non molto riuscito se lo trovate so che è introvabile al momento potreste orientarvi su Green Goblin se no Kang è un'ottima opzione anche The Hood ma io personalmente preferisco Kang e valuterei Moj una volta che come dire siete cresciuti un po' nella consapevolezza del gioco e poi perché no magari un Genesi Mutanti o un'evoluzione futura un po' per cambiare aria un po' anche per come dire soprattutto con evoluzione futura andare a vedere nuove nuove meccaniche per Marvel a differenza degli altri il progression è consigliato ma non è così obbligatorio nel senso che Marvel stesso lavora molto bene in termini di modularità per cui se voi avete una predilezione assoluta per i ragni per tutto ciò che riguarda lo Spider-Verse beh allora potete anche andare a prendervi le sinistre intenzioni con la wave corrispondente che sappiate che non vi perdete dei pezzi cioè sì ovviamente vi perdete degli scenari delle carte degli eroi e tutto però Marvel in questo senso mantiene anche a distanza di anni e di uscite la sua modularità bene io spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto vi possa essere utile per orientarvi un po' nelle scelte io vi ricordo unitevi al server Discord di Dovera Gondor dove al momento della registrazione oltre a veleggiare verso i 300 partecipanti abbiamo in corso campagne con più di 25 partecipanti al Signore degli Annelli LCG sta per partire una campagna ad Arkham Horror con 15 partecipanti quindi su 5 tavoli e su Marvel abbiamo iniziato da qualche settimana a giocare siamo più o meno fissi un 6-8 persone ogni lunedì sera e anche lì nelle prossime settimane inizieremo qualche campagna comunitaria per cui insomma unitevi trovate in descrizione il link vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al canale che per voi è un gesto molto semplice per il canale in realtà è un enorme aiuto perché aiuta a raggiungere un maggior numero di persone quindi a creare una community che si sta sviluppando e creando in maniera davvero molto unita molto legata sul server Discord per cui non dimenticate se vi è piaciuto il video di mettere like di commentarlo di condividerlo di invitare amici a seguire il canale perché è davvero un aiuto per il canale ma anche per tutti noi in realtà per rendere gli LCG più conosciuti e una community maggiore io vi ringrazio ciao alla prossima ciao 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 Grazie.